Allora, l'offerta della settimana, cari professori, professor Bennato, professor degli esposti e professor Savonardo, vale a dire Catania, Bologna e Napoli. Cominciamo dal professor Bennato perché io sono curioso di vedere gli occhiali questa notte del professor Bennato. Professor Bennato, eccoli, eccoli. No, gli occhiali sono sempre quelli. Gli occhiali sono sempre quelli della volta scorsa, diciamo che non ricambi con questa frequenza. Allora, che offerta? No, 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 ancora. Che offerta ci dice? Cominciamo con le banalità, mi sembra che non c'è, si nota molto che sia la settimana dove c'è stato i festeggiamenti dell'8 marzo perché mi sembra che la figura della donna sia come protagonista della trama che come, diciamo così, nella regia comunque è piuttosto presente in tutte le pellicole che sono state, in quasi tutte le pellicole che sono state presentate. Per quanto mi riguarda io, diciamo così, la mia anima è combattuta tra la mia passione per i film di genere e da un lato è sicuramente la mio interesse per i film che permettono di avere un taglio, un'interpretazione sociologica del mondo circostante. Quindi per quanto riguarda l'aspetto di genere è sicuramente l'ultima notte di amore perché a me piacciono molto i gialli, diciamo così, ambientati in Italia, soprattutto quelli molto crudi e mi pare di capire che questa pellicola vada in questa direzione. Poi sicuramente sempre nell'ambito dei generi, io sono un appassionato di horror, a differenza di Catena Fiorello e sicuramente la serie Scream è quella che mi è rimasta nel cuore soprattutto per i suoi giochi metalinguistici con il genere horrorifico, questo sicuramente è una componente. Poi sempre, diciamo così, guidato dalle mie passioni più che altro di ricerca, io mi occupo di miei digitali, sicuramente Missing perché l'utilizzo delle tecnologie digitali come nuova forma di rappresentazione ma anche come strategia di ricerca, di analisi, di studi è qualcosa che mi interessa sia come studioso che come appassionato. E poi c'è un film in particolare che mi ha colpito la fantasia che è Un uomo felice fondamentalmente perché io sono stato, diciamo così, appassionato di un film molto simile fatto da Pasquale Festa Campanile che si chiamava Nessuno è perfetto dove c'era appunto questo gioco di una ornella muti che invece rivelava un passato militare tedesco e quindi questa dimensione dell'identità sessuale, del passato, della transizione è qualcosa che me lo rende questo film molto molto interessante. Da Catania a Napoli, Professor Savonardo, l'offerta della settimana. Sentiamo i nostri tre amici docenti, Professor Benato, Professor Savonardo e Professor degli Esposti. Andiamo a Catania. Davide, Benato. Allora, per quanto mi riguarda è una classifica, diciamo così, un po' strana, con delle, diciamo, monocromatiche. Non monocromatiche nel senso che non emerge un colore in particolare ma sembra quasi tutto piuttosto distribuito. Per quanto mi riguarda io sono indeciso se andare a vedere The Whale perché sto seguendo il dibattito sui social e c'è chi dice bene e chi dice male. Anche se io, Benna Fraser, in quella versione sarei molto curioso di vederlo. Mi pento e mi dolgo di essere andato a vedere Ant-Man e Quantumania perché basta con questi Marvel non ne posso più come stanno ricicciando sempre le solite cose. E poi in realtà Mixed by Harry tutta la vita per due motivi. Prima di tutto perché mi piace la storia legata alla musica e alla distribuzione musicale ma soprattutto perché io appartengo alla generazione Napster, quelli che passarono dalle cassette copiate alla possibilità di scaricare internet la musica. Quindi sicuramente ha qualcosa che ha una corrispondenza di amorosi sensi questa tipologia di film. Professor Savonardo, Napoli. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.